sul gran sasso d'italia con i dopolavoristi del ministero stampa e propaganda qui a campo imperatore funziona una scuola modello aperta agli iscritti delle organizzazioni giovanili del regime la ginnastica prescritta dall'accademia fascista di educazione fisica è di prammatica prima di passare alle lezioni pratiche divise in tre corsi che tengono conto della speciale psicologia e capacità fisica dei piccoli allievi e li portano in pochi giorni alla corretta realizzazione della suprema aspirazione di ogni buon sciatore i cristiani a puro grazie grazie